musica 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 e ora te la vedi tu il mese di marzo stupido pezzo di merda e poi perchè questo albero è di meloni aiuta aiuta oddio aiuta ciao musica 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 ehi crepe sono creeper e che c'è? non riesco a dormire c'è una cosa c'è una scritta strana sopra di me no è normale come è normale no non riesco a dormire non riesco a dormire musica musica di figo oh questa cosa è musica ma che cavolo ma che cavolo ma che cavolo che c***o perdi tempo lascia stare l'olio che c***o vuoi mettere l'olio no stai zitta mamma mia oh che fastidio sei proprio fastidiosa oh mamma mia laura laura impiatta le carte sante e le presenta allo chef ma che cavolo aiuta che cavolo fai? è quel cattivone l'hai messo a dormire nella stanza degli ospiti? si si è lì dentro ok io vado a dormire buonanotte ah finalmente si dorme ah 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 te stimo nel Geova no musica 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 svegliati E poi perchè questo albero è di meloni? Vabbè, sarà meglio cominciare. Ma che cos'è questo posto? Ma che cos'è questo posto? Io come abbiamo fatto ad evolverci come razza umana? Ma era una scena effettiva. Ma che cos'è questo posto? Crap, cabelli, nuovi guanti. E il Karim. Sono Matteo! Salvini! E il Dio Porco! Sono Crap. E il Crep. Sono Crete. Finire. E tu con essa. Oh cacca! Oh my... 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 Oh... E ora? Beh, prova a bussare. Ma è un'arma Non fare un altro passo Adesso basta così Tu la conosci sto tipo? Ehm, no Ah, non sapevo che sarebbe finita male Non sapevo che sarebbe finita male E va bene Shinra Tensei Ah 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 Ah